senza nessuna difficoltà si riparte, di nuovo in parità si sono fatti cogliere in un momento di distrazione stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo l'appoggio sulla fascia palla a Beckham palla fuertante per Neymar in posizione per il cross attenzione occhio al tiro e c'è il punto del parcio in ora una grande partita oggi affintato e trovato l'angolo davvero spettacolare non sapevano più come affrontarlo gli ha ubriacati tutti conducono con una rete in più degli avversari una rete che dimostra l'interno